Ciao tifosi del Cagliari! Oggi parliamo del mercato dei trasferimenti che sta scuotendo le nostre quinte. Sembra che Gianluca Lapadula, il nostro attaccante italo-peruviano, sia al centro dell'attenzione, ma non esattamente come ci aspettavamo. La Gazzetta dello Sport ha riferito che, oltre al Pisa di Filippo Inzaghi, anche la Salernitana ha mostrato interesse per Lapadula, ma sembra che le cose si siano raffreddate. Proprio così, i campani, a quanto pare, stanno ritirando la loro offerta. E non è tutto. Hanno gli occhi puntati su un altro ex rosso-blu, Giao Pedro, che sta lasciando il Fenerbace in Turchia. E c'è un altro dettaglio che complica la situazione di Lapadula. Le sue richieste contrattuali sono al di là di quello che la Salernitana, sotto la gestione del presidente Danilo Iervolino, può offrire al momento. Allora, la domanda rimane, Lapadula andrà via o resterà? Cambierà squadra dopo due stagioni con noi sull'isola? O continuerà a indossare la nostra maglia fino alla fine dell'estate? E voi, cosa pensate sarebbe meglio per il nostro Cagliari? Lasciate il vostro commento e non dimenticate di iscrivervi per più notizie esclusive.